Gli spiriti di Getalsa. Gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi, reso conto di un'esperienza fuori dell'ordinario, nell'arco temporale di dodici anni, Idein. Poi, dopo i quaranta giorni e le quaranta notti, subentra stabilmente l'Ade. S'apre una porta. Là c'è il significato ed è il primo appello alla conquista. Non troverete alcun Dio che vada a giudicare e punirvi. Voi, a seconda di come avete giudicato, vi giudicherete da voi stessi. Molti, incapaci di luce, hanno un itero un po' pesante, però anche lì nessuno viene lasciato solo. Oltre la porta è l'Ade. Lì c'è il solenne, l'immenso. C'è la forma fatta di forza e di giovinezza. Le facoltà della coscienza, che precipitando nel corpo fisico per vivere la vita, diventano i sensi. Liberati dalla morte, divengono di nuovo libera potenza. E ciò che era udito diventa spazio. Ciò che era vista diventa luce. Ciò che era pensiero diventa la forza, la creazione. Tutto ritorna ad essere quel che era prima di cadere nella fisicità. Tutto dunque si trasforma, ma i sentimenti sappi, quelli, sono immortali.